Una partita in cui usciamo meritatamente sconfitti, la cosa brutta è che nei momenti di difficoltà lasciamo andare un po' la partita e non va bene, questa è una partita che comunque abbiamo approcciato anche bene, abbiamo iniziato i primi 5-10 minuti stando nel centrocampo loro, creando due o tre palle dentro l'aria, sbucando tre volte a destra e poi al ventesimo a prima occasione prendiamo gol e poi commettiamo una grave ingenuità e prendiamo il secondo e in quei momenti la squadra deve rimanere in gara perché le partite comunque delle volte possono andare in un verso, delle volte in un altro però non bisogna lasciarla andare come è stato brutto il terzo gol che abbiamo preso, abbiamo compromesso la partita nei 25 minuti della seconda parte del primo tempo perché poi nel secondo tempo la gara l'abbiamo anche fatta abbiamo creato le occasioni, saremmo potuti rientrare in gara però purtroppo era stata già decisa nella prima frazione dal ventesimo al quarantacinquesimo purtroppo non ci siamo stati in gara e non va bene perché comunque compromettiamo una gara in cui se vai a vedere i numeri non sono così eclatanti come poi il risultato parla e compromettiamo una gara in cui usciamo meritatamente sconfitti perché gli avversari hanno fatto meglio di noi tante cose dobbiamo essere bravi nei momenti di difficoltà a rimanere nelle gare, a saper stringere i denti, a saper fare meglio quello che oggi abbiamo fatto male perché in 25 minuti non puoi concedere tre gol a un avversario che in 90 minuti fa 5 occasioni da rete quindi un margine grande che abbiamo, ce l'è già capitato poco fa con questa successione di gare comunque di essere bravo a rimettere dentro energie e ricaricarti e guardare avanti perché abbiamo subito un'altra partita in cui possiamo rifare tante cose migliori di quelle che abbiamo fatto oggi poi a posteriori si possono fare tante valutazioni però per me un giocatore commette un errore in quel modo nella mia breve carriera non ho mai levato perché comunque gli errori ci stanno e si possono fare l'atteggiamento della squadra, ripeto, in quei 25 minuti doveva essere migliore perché le partite possono essere in un verso in quel verso noi diventiamo molto bravi però possono avere neanche un altro verso e nell'altro verso noi dobbiamo crescere tantissimo a rimanere in gara, saper soffrire e ritornare nella partita perché poi abbiamo avuto l'occasione per poter ritornare nella gara